Venite pure avanti, poeti sgangherati, inutili cantanti di giorni sciagurati, smuffoni che campate diversi senza forza, avrete soldi e gloria ma non avete scorsa. Invece di pure un medico, non traumatico, si è dato in via ad una falsa rivoluzione. Vedo una rivoluzione ha bisogno di un'ideologia rivoluzionaria e di rivoluzionari veri. Invece questa è stata una falsa rivoluzione, con rivoluzionari finti, eroi finti ed è una rivoluzione che infatti è in via di fallimento. Naturalmente in un periodo di democrazie governanti non si può immaginare la soluzione incroente, anche se nel mio caso la violenza è stata usata in comune, è stata usata in comune, la violenza. Questa rivoluzione è dei tempi moderni, è postmoderna, è una rivoluzione giudiziaria del terzo millennio. Alla fine degli anni Ottanta la situazione politica italiana vedeva nella democrazia cristiana un partito di governo al potere dal dopo guerra. Il partito comunista italiano legato al suo omologo sovietico rappresentava l'altra idea di società incarnata dalla rivoluzione russa. Il partito socialista italiano che fino agli anni Settanta aveva seguito i compagni comunisti nell'esplicazione della lotta di classe, con Craxi abbandona l'idea del deninismo per avvicinarsi alla socialdemocrazia europea e alla tradizione riformista italiana. La caduta del muro di Pernino ha sbloccato la situazione italiana ed era suscettibile, e Craxi l'aveva capito benissimo, di darle uno sbocco, invece che così negativo, molto positivo. Nel senso che questa prima strada era l'alternativa di sinistra. No? Craxi portò i comunisti in Europa. Io, nell'Iteria, che avendo accaduto la subitanza dei muscoli italiani a Mosca, venivano meno le corruzioni per le quali, tanti anni addietro, per 1921 si era creata la fattura, pensando che bisognava cambiare la situazione d'Italia, che i comunisti rappresentano una grande forza popolare, e io immaginai che bisognava disegnare una strategia di vita socialista. Mi chiedeva di un farlo, in campo internazionale. Io fui il relatore che propose di accettare la richiesta di adesione del PDS all'internazionale socialista, ma ne le incorse, ma anche le incorse, subito a voi, questi già cavalcano, non del giustizialismo politico. Il gruppo dirigente del PDS ha deciso di andare fino in fondo, di spingere l'acceleratore fino in fondo, di cogliere l'occasione per toglierci di mezzo, per spazzare via, soprattutto i socialisti, in parte della DG, dividerla e ammettere in parte della logica del tratto comunismo. Non avendo più ciro da vedere nel terreno su cui cammina, perché il crollo del comunismo internazionale ha rilazionato ogni tipo di valore e l'unico attacca panni dove si poteva mettere un vecchio colbacco era quella di una presunta diversità morale. Tutta questa grande rivoluzione si fonderebbe sul fatto che si è scoperto che il sistema politico italiano si finanziava illegalmente, cose di cui tutti erano a corrente e sapevano benissimo, cose di cui tutti sono corresponsabili e attraverso quest'arma si è aperto il barco. Craxi lo disse subito in Parlamento quando ancora non era scoppiato il caso Craxi. In questo momento parla da statista, non da imputato. Buona parte del finanziamento politico è irregolare o illegale. I partiti hanno ricorso e ricorrono all'uso di risorse aggiuntive in forma irregolare o illegale. Non credo che ci sia nessuno in quest'Aula responsabile politico di organizzazioni importanti che possa alzarsi e pronunciare un rivolamento in senso contrario a quanto affermo perché presto o tardi i fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro. Il profilo del discorso di Craxi era un profilo alto di difesa della democrazia, anche per quanto riguarda la democrazia riziana non aver tolto a volo il discorso di Bertino Triangisi che poneva su una questione più alta tutta la vicenda miserevole del cosiddetto finanziamento illecito. Quella fu una responsabilità che poi finimmo per pagare, naturalmente, anche noi e con noi l'interno del mercato italiano. Craxi aveva visto la strada giusta, cosa che la sua personalità lo aiutava a questo, di sapersi orientare e di dominare, quasi sempre l'indominato. Questa grande operazione riguarda il finanziamento illegale della politica dall'89 al 92, perché fino all'89, guardate bene, tutta questa materia è ammestiata. La procura di Milano è una di quelle procure che potrebbe, che dovrebbe tenere San Paolo, perché è stata illuminata, guarda caso, soltanto quando è finita un'epoca storica, perché prima la procura di Milano non si sapeva. La titola è un paese con una società per azioni e portare i libri in tribunale, anche se deve pubblicare i bilanci, ma insomma è un posto molto diverso, è un fatto politico, non è un fatto prevalentemente amministrativo. Il finanziamento della politica è tempo che l'Italia smetta quella ipocrisia che è durata 50-60 anni, o forse di più ancora, forse dall'epoca dell'unità d'Italia. Provandiamo a Giuseppe Razzini come finanziava il partito pubblicano. Uno dei primi che aprì la strada al finanziamento della democrazia cristiana da parte dei neri si è stato l'Aletta di Mattei. Lo facevano per ragioni politiche vere e proprie, perché ritenevano che complessivamente questa formazione o quest'altro dovesse essere aiutata. In diversi casi altri, che lo facevano per ottenere favore, per ottenere un atteggiamento di favore. Perché i novi sovieti che ha finanziato il partito pubblico? Perché non credo per vendere i prodotti sovietici in Italia, per i prodotti russi in Italia. Lo faceva per quello che inteneva che quello fosse un importante anello della catena comunista nel mondo. Non credo che quando venivano dall'Unione Sovietica dei contributi al partito comunista questi passassero per la marca d'Italia. Probabilmente passavano per il KGB, passavano per le ambasciate e probabilmente passavano anche per i conti esteri. L'unica alternativa vera era un aumento equilibrato ma sensibile del finanziamento pubblico. Stiamo parlando di un finanziamento che prevedeva 70 miliardi di euro quando i partiti ne spendevano miliardi di euro. L'Italia ipocritamente, ipocritamente, falsamente, teneva in piedi una legge che se si violava, si veniva a poter essere condannati sino a 4 anni di peggiore, tutti la violavano, tutti sapevano che la legge era violata, tutti presentavano bilanci falsi in Parlamento, con una grande ipocrisia italica. In quest'Aula, e di fronte alla nazione, io penso che si debba usare un linguaggio improntato alla massima francese. Bisogna innanzitutto dire la verità delle cose che è risposta nel Paese, della vita delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni. Una rete di corruttele grandi e piccole. E' evidente che a ridosso del finanziamento politico dei partiti si formava tutta un'area e un sottobosco che sfuggiva al controllo dei partiti, aveva un'altra dimensione, un'altra natura. I capi sono della più diversa natura. Spesso continuano con il racket maraviglioso e talvolta si presentano con un carattere particolarmente odioso di immoralità e di asocialità. Dicano che c'era un finanziamento illegale, lo sapevamo tutti bellissimo, vi partecipevamo tutti, dovevamo porre un rimedio. La cosa non andava bene così. Non abbiamo posto, abbiamo sbagliato. L'abbiamo lasciato andare avanti perché ci interessava, questa è la verità. Abbiamo lasciato andare avanti una macchina politico-judiziaria che colpiva solo da una parte, questa è la verità delle cose. Colpiva solo in alcune parti, non in altre. La prova che non si vuole la verità e che non si è voluta la verità è che quando io parlai di un'inchiesta parlamentare di fronte al Parlamento mi trovai... Il Presidente della Camera allora disse che è una cosa che non avrebbe ottenuto risultati. Ma si sono fatte inchieste parlamentari su tutto, ottenendo o non ottenendo risultati. Si sono fatte inchieste parlamentari su qualsiasi cosa. E come mai sul più grande scandalo della storia? Il più grande scandalo della storia non si fa un'inchiesta parlamentare. Perché? E invece si è dato corso a un massacro giudiziario. Quale scopo? A uno scopo di giustizia? A uno scopo di moralizzazione? Osservo ciò che è avvenuto. E se lo osservo, per quanto riguarda il mondo politico, vedo una certa mappa. Una mappa con dei confini. C'è chi deve essere protetto. C'è chi deve essere tenuto dal bagno maria. C'è chi deve essere distrutto. Non si capisce per quale ragione sono tutti alla caccia dei conti del PSI. E perché mandiamo alla caccia dei conti del PC? Alla caccia dei conti del PC non ci va nessuno. Ma perché il PC aveva meno mezzi finanziari di noi? Aveva di più di noi. Buograzie immense e costosissime. E noi non avevamo. Ma l'intero sistema cooperativo finanziava il Partito Comunista. E sul piano delle leggi di bilancio, delle leggi finanziarie, le agevolazioni che si davano al sistema cooperativo era anche un modo perché il sistema cooperativo vende di finanziare il Partito Comunista. Noi in tutti gli atti del processo che abbiamo fatto, che è nel metropolitano, eccetera, ci siamo sempre trovate le carte del finanziamento fatte direttamente dal PC. Sempre ce le siamo trovate. Non sono mai state tenute in seria considerazione. Tranne per un caso, il caso Gregante, se no anche altri episodi, nei quali sono stati pescati con le mani nel sacco. Prendi l'episodo di Cusani che porta due miliardi nella valigetta a bottego scure e se ne escono dicendo «Ah, ma poi non sappiamo a chi è stato consegnato, insomma, che clavoroso». Ci sono tutti degli atti processuali, ma non credo che a voi risulti che ci siano state dei processi a carico di altri. I magistrati avessero colpito indiscriminatamente tutti. Non sarebbe durata, ma ripulite, sei mesi. E naturalmente avrebbero bisogno di un consenso popolare e sono andati. E quindi, proprio ecco, in alcuni casi si sono fermati i portoni, in altri casi si sono andati altri portoni. Non avevamo alternativa. Eravamo come una grande nazione indiana chiusa tra le montagne, con una sola via d'uscita, un canyon. E lì c'era Craxi con la sua proposta di unità socialista. In sostanza, un progetto annessionistico. Come uscire dal canyon? Questo era il nostro problema strategico. Come trasformare il PCI senza cadere sotto leggemonia craxiana che avrebbe segnato la disfatta della sinistra? Craxi aveva un indubbio vantaggio su di noi. Era il capo dei socialisti in un paese europeo-occidentale. Quindi rappresentava lui la sinistra giusta per l'Italia. Allora avevamo una sola scelta, diventare noi il partito socialista in Italia. Era il 29 di giugno del 1992. Gerardo Germonte mi disse e disse a Renato Altissimo attenti perché il mio partito ha scelto la strada dell'opzione giudiziaria per raggiungere il potere. e la presidenza della commissione antimafia affidata a Luciano Violante uno degli strumenti utili che in realtà l'opzione giudiziaria potesse nella sostanza essere concretizzata. con riferimento da un lato alla messa in moto di meccanismi attraverso i quali una serie di uomini di governo a cominciare da Andreotti naturalmente sarebbero stati poi in sei mesi sottoposti a visa di garanzia per l'associazione mafiosa, camorristi e quant'altro. E dall'altro piano è l'altra penale che era il finanziamento illicito sul quale tutti naturalmente avevano il fianco esporto. Questa è una cosa che ci colpì colpisiamente è renato altissimo e probabilmente la sottovalutano. La politica che all'epoca era l'unione dei comunisti italiani e i marxisti e i denisti appoggiò fortemente questa corrente che nasceva all'interno della magistratura e che si proponeva come obiettivo quello di affiancare le lotte popolari e in particolare la classe operaia nella lotta per la trasformazione radicale della nostra società e la presa del potere da parte del proletariato. La questione diventò drammatica quando invece la prospettiva rivoluzionaria venne meno per cui a quel punto questa corrente non cambiò indirizzo politico e cambiò soltanto strategia nel senso che si pose al servizio chiamiamola genericamente della sinistra ma in particolare del partito comunista italiano per aiutarlo in quella che magistratura democratica chiamava la lunga via attraverso le istituzioni cioè lo scardinamento degli avversari politici anche per via giudiziaria perché venesse favorito il percorso della sinistra verso la conquista del potere. Avrebbe ricevuto due visi di garanzia per l'inchiesta sulle tangenti il deputato socialista Sergio Moroni che si è suicidato ieri sera a Brescia. Il 2 settembre 1992 il deputato socialista Sergio Moroni appreso dai giornali che era inquisito per tangenti si toglie la vita lascia una moglie e una figlia nella sua lettera al presidente della camera Giorgio Napolitano scriverà Ricordo la procedura delle decimazioni in corso presso alcuni eserciti e per alcuni versi mi pare di ritrovarci con legamenti Forze oscure contivano disegni che nulla hanno a che fare con il rinnovamento e la polizia Un processo sommario e violento Cronave giornalistiche e televisive a cui è consentito di distruggere immagine e dignità personale di uomini solo riportando dichiarazioni e affermazioni di altri Quando la parola è flebile non resta che il gesto Due giorni dopo sul Corriere della Sera il sostituto procuratore di Milano Gerardo D'Ambrosio afferma Si vede che c'è ancora qualcuno che per la vergogna si uccide Non è da meno Luciano Violante presidente della Commissione Antimafia della Camera dei Deputati Fare processi a un ceto politico abituato per troppo tempo all'impunità può provocare scompensi Si sta esistendo la creazione di un clima infame che non riguarda solo me Un clima infame che è di criminalizzazione generalizzata che non proponga niente di buono Tutti gli imputati del processo di Sergio Moroni saranno assolti dopo 15 anni perché infatto non sussiste Gabriele Cagliari ex presidente dell'Eni si è tolto la vita nel carcere di San Vittore un altro suicidio e il decimo una richiesta manipulita che sconvolge gli ambienti imprenditoriali politici e giudiziari Il 20 luglio 1993 Gabriele Cagliari viene trovato morto nella sua cella si è soffocato in bagno con un sacchetto di plastica In quale paese civile del mondo a memoria del secolo Un'inchiesta giudiziaria ha creato un clima talmente infame da provocare vite stroncate famiglie distrutte persone distrutte senza neppure essere state ancora rinviate a giudizio e condannate sommariamente nel loro paese nella loro cittadina nella loro città distrutte chi ha creato questo clima e chi ha alimentato questo clima Utilizzando il il finanziamento non dichiarato a decennere come poteva però questo diventare uno strumento pratico si arrestava l'imprenditore per una soffiata lo smetteva in carcere e siccome l'imprenditore aveva un problema di dover seguire anche la propria azienda si dava all'imprenditore la possibilità di uscire e di patteggiare naturalmente con la legge di volentieri l'indicione dei partiti che aveva finanziato ma l'accelazione come strumento di confessione l'opinione sola di poteri impunemente essere oppresti ci sfoglia della libera facoltà di valerci dei nostri etili e nel caso dei venditi di mafia il problema è semplice c'è il boss in carcere l'assassino condannato dal gastro arriva l'agente della via e gli dice se tu mi dici una cosa su Andreotti o su Mannino o su Dell'Utri esci libero ti do pure uno stipendio e proteggo la mia famiglia era come la famosa battuta del padrino una proposta che non si può rifiutare il meccanismo di Maio Pulide era lo stesso dalla lettera di addio di Gabriele Cagliari e la moglie mi hanno colpito alcuni passi ci trattano veramente come non persone come cari ricacciati ogni volta a Calite ciascuno di noi già compromesso nella propria dignità gli occhi dell'opinione pubblica per il solo fatto di essere inquisito o peggio essere stato arrestato deve adottare un atteggiamento di collaborazione che consiste in gradimenti e relazioni che lo rendano infido inattendibile e inaffidabile che diventi cioè quello che loro stessi chiamano un infame come ammetterà in seguito Francesco Misiani il magistrato della procura di Roma autore del primo mandato dal resto Bertino Cazzi l'interrogatorio in carcere serviva per acquisire prove che non aveva la prigione è piuttosto un suffizio che la custodia del reo è piuttosto che è un'attività che è un'attività noi non incarceriamo la gente per farla parlare la scarceriamo dopo che ha parlato tacere e già diventare complici addirittura quello che veniva dichiarato da chi era in carcere veniva poi nel processo ripetuto ma ripetuto dal PM perché in quel caso l'incarcerato che aveva detto e chiamato in corretà a una serie di persone poteva anche non ripetere nel dibattimento ogni processo si svolgeva così questi verbali erano volumi nel pubblico ministero che aveva detto giornate intere a stare lì ad assistere a questo che leggeva non ci crederete ma era proprio così storicamente verificabile documentato giornate intere e il processo andava avanti io voglio raccontare un episodio erano state arrestate due un socialista e un democristiano la mattina presto i carabinieri le vanno a prelevare e le portano in una caserma la sera queste erano libri quando le postano i verbali ovviamente in cui tutti e due accusavano Craxi di essere il mandante della richiesta di tangenti a una serie di imprese andiamo a leggere questi verbali e troviamo che sono l'uno la fotocopia dell'altro rinominiamo un peritografico un peritografico espertissimo tedesco fuori dall'Italia il quale ci fa questa consulenza ci dà questa consulenza e ci dice queste parole identiche a questo ecco, fotocopia questa l'una la copia dell'altro primo elemento Bettino ci manda una lettera della quale si gli confessava che in carcere non ce la faceva più a stare gli avevano detto se ci dai il nome di Craxi puoi uscire poi ti faremo uscire insomma lui gli ha dato il nome di Craxi ed è uscito e questo con Bettino gli perdona le cose c'è una lettera che ci mandò Bettino noi sulla base di questi elementi ce n'era anche qualche altro prepariamo una memoria scritta il pubblico ministero immediatamente esercita l'azione penale contro di me contro Guiso per calunnia quindi noi ci troviamo imputati questi mesi esercitavamo il diritto di difesa cioè stavamo contestando una prova stavamo dicendo al tribunale stai attento che questa prova non è genuina no è il più normale diritto del difensore calunnia è diventato una fatica inutile soltanto retorica che serviva a salvare la parezza con la folla applaudente fuori a ogni sentenza di condanna che veniva fuori da Milano si può anche dare atto a Craxi che in questo processo non è risultato né che abbia sollecitato contributi al suo partito né che li abbia ricevuti a sue mani ma questa circostanza che forse potrebbe avere un qualche valore dal punto di vista per così dire estetico nulla significa ai figli dell'accertamento della responsabilità penale Bettino Craxi condannato a tre anni e a una multa di 60 milioni nel processo Enimot Craxi è colpevole perché era segretario del partito e tutto veniva deciso da lui è la tristemente famosa teoria del non poteva non sapere la mia è sempre stata in una posizione di correttezza a me non mi ha mai corrotto nessuna la verità non c'è nessuno che possa dire di avermi chiesto qualcosa un favore contrario agli interessi della pubblica amministrazione in cambio di danaro non c'è nessuno che lo possa dire e non c'è nessuno che lo ha mai detto Cax è stato condannato in due sentenze per via definitiva quella è l'ENISAI processo per l'ENISAI e il processo per le metropolitane melanesche e il vulnus principale di questa sentenza era che si fondavano su dichiarazione di questi famosi pentiti veli larini e simili che poi in aula si erano rifiutate di rispondere con un'organizzazione sistematica di processi falsati e io mi difenderò di fronte alla giustizia europea e spero di ottenere all'estero nella comunità europea e in Europa la giustizia che non ho ottenuto in Italia questa è l'unica arma di difesa morale che io ho e che perseguirò fin di fondo entrambe le sentenze quella per l'ENISAI metropolitane melanesche sono state clamorosamente bocciate dalla Corte Europea dei diritti degli uomini e addirittura la Corte Europea bocciò e condannò l'Italia perché aveva impedito a Craxi di difendersi nel giudizio secondo i principi della Corte Europea dei diritti dell'uomo ma questo come per Sergio Moroni interverrà molti anni dopo anche il Coce della Guardia di Finanza ha preso posizione quindi una colorosa serie di arresti di Abre nel frattempo impazzano i processi che stanno cambiando il sistema politico italiano terminato in serata a Palazzo di Giustizia il vertice dei magistrati milanesi sul cano crani e ancora il primo piano quando vi ho letto l'inchiesta milanesi sulle tangenti con un arresto clamoroso e tantissime telepolate di buon estere tra i primi e i primi legi tra i primi legi un'impreviazione popolare per quello che è accaduto ieri grazie alla diverse funzione di processo politico e solleva i sospetti di amicizie imprigiati del magistrato giudizio magistrati che per 50 anni hanno chiuso gli occhi su tutto in cambio dei primi legi una volta acquisiti questi primi legi e sono diventati un potere hanno approfittato questo è stato uno dei momenti più negativi e più oscuri pensare che la magistratura potesse essere il lavacro che sostituiva ogni altro potere democraticamente eletto con il spirito e ragione guardatevi da quei giudici giovani passi arditi temerari e sanguinolenti i quali perché arrivino da corte la loro fama e che di là venga affidato loro qualche governo fanno mille crudità nelle vostre terre di tal maniera che vi sarà più da rimediare per gli spropositi che fanno che per le colpe che i vassani commettono 1.600 adesso vediamo che cosa succede questa sera a Milano e se la procura rimane per il mezzo della tempesta giudiziaria avviene qualcosa di molto importante per l'economia italiana per evitare il crollo della lira la banca d'italia ha dovuto compiere una manovra durissima che avrà però costi economici e anche sociali molto salati la situazione è così grave che anche il presidente della repubblica è dovuto scendere in campo la questione della svalutazione della lira è una storia io dico del tradimento della repubblica all'inizio del 1990 la lira era nella cosiddetta banda larga del sistema monetario europeo che cosa accade nel gennaio del 90 che il governatore della banca d'italia Carlo Azzeglio Ciampi decise di passare la lira dalla banda larga alla banda stretta significava che quella lira doveva avere una forza e per avere una forza bisognava avere offrire alti tassi di interesse se mi domandate perché fu fatto questo passaggio non c'era alcuna esigenza di carattere economico né nessuno ce l'aveva chiesto l'agenzia internazionale Mufus inaspettatamente deglassa la moneta italiana nel settembre del 1992 inizia il ritorno attacco alla lira che per essere difesa viene svalutata del 30% dal governo amato la banca d'italia spende 14.000 miliardi il governo della banca Ciampi in poche settimane distrusse qualcosa come 15.000 miliardi di lire per la insipienza della banca d'italia dell'epola alcuni soliti notti trasferirono in valuta estera ben 30.000 miliardi di vecchie lire che nello spazio di 15 giorni avevano perso il 30% del valore per cui chi aveva romperato 30.000 miliardi di lire li aveva tramutati in dollari si trovò in dollari una plusvalenza del 30% tanto per fare di conto della serba 9.000 miliardi in più esentasse il finanziere squalo Soros fece una colossale speculazione sulla via guadagnando non so quale cifra colossale dopo questa sua impresa a riconoscimento ebbe la laurea onoris causa dall'università di Bologna grandi intrighi grandi avventure alle quali sono portati molto spesso tra tutti gli anni dobbene nazionali è un tentativo di iniziaggio negli anni 90 in Italia è finito cosa ha portato a tutto questo il 29 aprile 1993 Carlo Azzeglio Ciampi è alla villa di un governo nel quale per la prima volta sono entrati anche i post comunisti la Camera è chiamata a decidere sulle autorizzazioni a procedere chieste dalla procura di Milano nei confronti di Bettino Craxi la richiesta due giorni fa di autorizzazione a procedere contro Craxi per i reati più gravi di cui era accusato come voluto dai padri costituenti l'istituto dell'autorizzazione a procedere era stato inserito nell'ottica dell'equilibrio dei poteri per evitare che un qualsiasi magistrato potesse intervenire nella lotta politica inquinando il gioco democratico stop ai giudici di Milano l'assemblea di Montecitorio ha detto no a quattro delle sei richieste di autorizzazione a procedere per Bettino Craxi sono quelli di intanto in aula dopo il voto scoppia una rissa le reazioni sono violette e a Milano i giudici rimani pulite anche oggi al lavoro non si danno certo per tutti il procuratore capo di Milano Francesco Saverio Borrelli dichiara che è un atto sconcertante la camera ha sottratto Craxi a una prospettiva di contatto il procuratore aggiunto D'Abrosio è più politico così si rischia di fare il gioco di chi non vuole il rinnovamento mentre finalmente sembrava si fosse trovata una soluzione per il paese con questa dichiarazione D'Abrosio chiarisce il nuovo ruolo del pool di Milano si arroga il compito di trovare soluzioni politiche per il paese ma non solo esegue il rinnovamento della classe politica innanzitutto il Parlamento non mi ha assolto perché il Parlamento non mi ha giudicato si doveva pronunciare sulla esistenza o meno del Fumus persecuzione se negli confronti c'era stato un accadimento particolare gli esponenti gli esponenti della rete agli altri del PDS sventolano il capogruppo PDS alla Camera afferma le forze politiche dimostrano di non avere la minima consapevolezza della situazione del paese che della richiesta di pulizia che viene dalla gente tutto questo configura un mozzo di menzogne e di ipocrazia che effettivamente mi ripugna mi ripugna perché alcuni di questi tacciano nella speranza che nessuno si occupi di loro altri alzano la voce che sono dei grandi accusatori Nella piazza distante alla Camera il PDS e la rete organizzano un presidio dal quale si alzano cartelloni con scritto Craxi in carcere arrestateli tutti viene incazzato un fantoccio di Craxi incatenato e indivisa da carcerati forse in termini penali in termini patrimoniali salverà qualche mese di condanna o qualche poco di miliardi raccattati in danno dai cittadini italiani ma lui è sconfitto l'Italia è avanti nonostante lui e nonostante persone come lui il PDS ritira i suoi ministri dal governo si grida lo slogan Craxi in galera entro questa sera i partiti organizzano manifestazioni in tutta Italia ci sono stati in queste manifestazioni slogan striscioni grida e volantini di condanna nei confronti dei politici implicati in scandali ma anche volantini di sostegno al lavoro dei magistrati milanesi Italia Radio evitante comunista invita i cittadini a partecipare a un comizio in cazza natura dove parlerà il segretario del PDS Archiglio Occhetto che cosa dovevo fare? che non mi dovevo difendere non dovevo esporre le mie ragioni dovevo stare zitto come sono stato in fondo per sei mesi il giorno del comizio i giornali aprono con titoli a cinque colonne fra tutti spiega la repubblica e questo gruppo è l'assalto del potere tutti lo vedono questo gruppo è in un certo senso la nave ammiraglia di tutto un assalto portando le aggressioni personali con una violenza con una spregiudicatezza e con un cinismo impressionante nell'editoriale di Eugenio Scalfari si legge questo dopo il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro è il giorno più grave della nostra storia repubblicana il tipo di giornalista che io disprezzo è il giornalista il quale richie di poter scrivere quello che vuole calcolando che comunque la sua vittima non è in condizione di reagire che se c'è una smentita da fare la si metterà in fondo al giornale ma è che e che e che quindi può tranquillamente mentire accusare aggredire o che il conto non lo si paga che il conto della verità non lo si paga è ancora più indignata l'unità organo del PDS diretto da Walter Petroni il quale definisce quella votazione assolutamente irresponsabile che vuole bloccare il processo di transizione democratica che faticosamente si stava cercando di realizzare abbiamo persone le quali parlano e quando parlano sembra sembra che che sia la parola del profeta la parola del profeta di Milano tutto questo è completamente fuori regola è fuori dell'armonia della democrazia il ragondo come Ulisse infaticabile come Caliber preverito come Marco Polo sentimentale come Lawrence Stern c'è un viaggiatore in più nella leggenda Antonio Di Pietro i suoi spostamenti in giro per il mondo da un paio d'anni a questa parte sono seguiti nei cinque continenti come le missioni pastorali del Papa dall'Australia a Hong Kong dal Canada a Bruxelles via Stoccanda da New York a Lussemburgo via Madrid il giudice itinerante traccia la rutta di una nuova reputazione italiana diffonde ottimismo semina fiducia calamita consensi su quel gigantesco cantiere a forma di stivale che si allunga nel Mediterraneo a Venezia viene occupata la facoltà di architettura così come avviene a Genova e a Canteri compaiono striscioni che incitano ladri a Redegri a Monte Craxi le sedie di PSI a Milano come a Roma vengono assediate ripetutamente al comizio di Piazza Davona il PDS ha mobilitato 5.000 persone Craxi innocente o colpevole? è colpevole ma avete già fatto il processo? no non ho fatto il processo è colpevole perché doveva essere una persona onesta e dimettersi spontaneamente da deputato che cosa che non ha fatto voglio che Craxi vada in galera Craxi dovrebbe avere il coraggio di venire qui a Piazza Davona stasera sul Vicente quindi il processo si dovrebbe fare qui a Piazza Davona stasera sì anche arrivati a questo punto spasciando alla fine la fonda viene invitata a proseguire la protesta a Hotel Raphael dove alloggia Bettino Craxi a due passi dal luogo della manifestazione stasera 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 veniamo da Piazza Davona sono un esetto in mezzo siamo di fronte alla local rapa e questo è qualcosa che sta succedendo in attesa che Craxi esca da quella porta una marmaia una marmaia come si è viste tante della storia che va a compiere atti di offesa atti criminali è un episodio che passerà alla storia per quello che è stato per la prima volta nella mia vita ho provato sulla mia pelle lo squadrismo quello è una forma di squadrismo si pretendeva ad ogni costo che gli usciti dalla porta di dietro e invece io sono uscito dalla porta davanti oggi passato quest'anno lontano gli agitava un campio gli ha gridato il campio per fortuna non si è avvicinato non so se prendiamo per lui attentato a Palermo contro Giovanni Falcone la mafia lo ha ucciso il direttore di notizia del giudice Falcone e della strage di Palermo ci riempie l'animo di sgomento e di rabbia è caduto un giudice coraggioso irriducibile nemico della criminalità organizzata la mafia colpisce ancora una volta lo Stato lo sfida e lo sconfigge chi sono i criminali che hanno messo bombe di fronte a monumenti d'arte basiliche luoghi storici e che probabilmente tenteranno di metterne ancora chi sono gli assassini che hanno provocato stragi di cittadini innocenti e di servitori dello Stato tre tornate di bombe non tutte forse collegate tra loro delle quali tuttavia può essere tentata una lettura in relazione con gli avvenimenti che si succedevano la legislatura prende avvio con l'assassinio di Falcone e la strage di Capaci cui seguirà l'assassinio del giudice possedito una campagna elettorale attraversata da una tornata di bombe tre bombe esplodono a Roma e a Milano subito dopo i tragici suicidi di Cagliari e di Gardini che avevano suscitato un'enorme emozione in tutto il paese niente in questo campo è affidato a un caso c'è una strategia una testistica degli obiettivi che vengono perseguiti con violenta determinazione una tesi e una retorica sostanzialmente falsa attribuisce queste bombe ad un vecchio sistema che resiste lo potrebbe credere solo un'opinione pubblica stordita da una propaganda falsa spregiudicata e persino nazitoide ritengo che non da oggi agisca nella crisi italiana una mano invisibile che punta ad esasperare tutti i fattori di rottura e per ottenere questo scopo non esita a ricorrere al classico metodo criminale del terrorismo terrorismo mercenario e professionista non terrorismo ideologico questo fenomeno sarà denunciato anche dal capo della polizia al momento delle stragi di mafia quando la mafia fa saltare in aria Falcone e Borsellino non per tenere in piedi il sistema ma per spazzare via tutto quello che era rimasto del sistema storico della convivenza con la democrazia cristiana penso a un ambiente che ha ricerca di rotture di orese di un'ala colpista e avventurista che si muove all'interno della drammatica crisi che ha investito la società politica italiana alcune persone pensavano che questa era un'occasione per poter riempire chiamiamola di tecnografia una guida del paese che loro avevano sempre ritenuto che la politica della prima repubblica non garantisse a sufficiente e che calcola che da un massimo di confusione di disorientamento di tensione e di ribellione si potrà trarre il massimo di profitto c'era un interesse di circoli finanziari politici e finanziari a poter vedere le opportunità italiane come occasione di continuo come si suol dire e per esempio il 25% dell'economia italiana era nelle mani dello Stato le banche grandi aziende pubbliche di grande valore strategico che erano nelle mani dello Stato e che lo Stato aveva anticipato di volerla vendere mi cita solo alcune la Telepol l'Eni l'Enel e tutte le società autostrade e tutte le altre grandi aziende pubbliche in realtà le privatizzazioni sono fatte male sono fatte in maniera confusa a favore dei soliti noti non a favore del paese e stiamo ancora pagando credo che l'industria di Stato meritasse una sorte che sta meritando tenuta in scacco per anni e poi praticamente privatizzata umiliatoriamente a condizioni molto spesso discutibili molto spesso discutibili esistono delle cattive borghese delle cattive elite quelle che io ho definito di parassitarie che vivono appunto non certamente di democrazia neanche certamente di buon mercato ma vivono di rendita e gli anni di mani pulite gli anni della finta rivoluzione sono gli anni in cui queste elite parassitarie acquisiscono un ruolo e un peso determinante nella vita del paese allora la rivoluzione è stata tanta da un'idege ma classe dirigente rivoluzionaria che proviene da tradizioni rivoluzionarie che ha spostato da tempo alla democrazia che non condivide più le idee del comunismo con l'entivista democratico ma non è lontano alle idee di un socialismo liberale moderno che è cosa diversa dal liberismo che è cosa diversa dal capitalismo più semplice oppure è stata la porta aperta a grandi poteri economici e si poteva fare a meno del rilasciare in questo ruolo leggerne ai poteri forti no perché i poteri forti a loro volta gli ha attivato la protezione e il sostegno attraverso la loro stampa e la loro informazione di questa falsa rivoluzione alla fine del 1993 tutto era compiuto la gioiosa macchina da guerra del PDS si apprestava alle elezioni sostanzialmente senza opposizione la DC si era dissolta il PSI era in liquidazione la falsa rivoluzione era compiuta ma nessuno aveva calcolato che l'elettorato di questi partiti avrebbe trovato un altro simbolo e un altro luogo per il quale votare qualcuno dirà ma c'è non le televisioni di Berlusconi a fare da controcanto e qualcuno osserverà sono arrivate loro perché anche loro per ragioni loro per ragioni che non vogliono indagare hanno partecipato o hanno accompagnato o non hanno contrastato la falsa rivoluzione salvo poi rendersi conto che una rivoluzione non si può fermare e quindi si deve dirigere verso chiunque in rivoluzione di di Rotana su una strada diversa da quella verso la quale doveva andare di rivoluzione di rivoluzione Grazie.